Nel primo giorno di Zona Rossa Nazionale, cioè nella vigilia di Natale, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni ha firmato una nuova ordinanza che regolamenta gli spostamenti ma che in sostanza rende valide le disposizioni regionali che erano già state messe per la Zona Rossa e Arancione. L'Italia sarà Zona Rossa il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, poi l'1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Durante la Zona Rossa è consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni di parenti o amici all'interno della Regione, per massimo due persone che possono essere accompagnate da minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti. È consentito raggiungere le seconde case all'interno della Regione. Per Capodanno il coprifuoco si estende fino alle 7 del mattino. Sono molto contento di come sono andate le cose, ovvero ho visto per le strade e per le piazze della Toscana, grande senso di responsabilità, ormai non si vede più nessuno che non porti la mascherina, che non mantenga i rapporti e i contatti secondo le regole e non è un caso che salutiamo alla vigilia di Natale una Toscana virtuosa perché andando a guardare i dati siamo fra coloro che hanno i dati migliori nel rapporto fra numero di abitanti contagiati che risultano al tampone sia al primo tampone che al secondo. Nei giorni di zona arancione 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio la novità rispetto alla zona rossa riguarda gli spostamenti per le persone che risiedono nei comuni sotto i 5.000 abitanti che potranno viaggiare entro un raggio di 30 chilometri, esclusi i capoluoghi di provincia. Anche in zona arancione è possibile fare visita una volta al giorno a parenti o amici in tutta la Regione con le stesse regole valide per la zona rossa. Tutti gli spostamenti devono essere autocertificati. Infine, salvo esigenze di lavoro salute, non è possibile né in zona rossa né arancione uscire dalla propria Regione.